In Ecuador, Bolivia e Paraguay è quasi tutto pronto per l'arrivo di Papa Francesco. È ormai imminente infatti la partenza del successore di Pietro per l'America Latina tra il 5 e il 13 luglio prossimi. Nel viaggio più lungo del pontificato, il Papa, venuto quasi dalla fine del mondo, torna nel cosiddetto continente della speranza, partendo dall'Equador. C'è stato un santo sacerdote gesuita, il fondatore di Fee e Allegria, che diceva che l'America Latina non è un paese di sottosviluppati, ma di sottoeducati, ovvero quella condizione imposta alle nostre comunità a motivo dell'ignoranza e di una pessima educazione. E il nostro governo, in questo momento, ha intrapreso una grande campagna per uscire dal sottosviluppo, sulla base di una rivoluzione educativa basata soprattutto sull'impegno delle famiglie, perché sappiamo che la famiglia è il nucleo della società e se abbiamo una famiglia sana, una famiglia ben strutturata, avremo un paese ugualmente sano, sviluppato e che va verso il progresso. Esiste anche un principio che afferma che quando educhiamo un bambino, educhiamo l'uomo, ma quando educhiamo una bambina, educhiamo la famiglia. Sono tante le sfide che attendono l'Ecuador e il suo popolo, la questione della sicurezza, il narcotraffico, il lavoro, la sanità, ma tutti sono convinti che la visita di Papa Francesco innescherà un moto virtuoso di conversione. Si è perso il senso del peccato, dobbiamo prendere coscienza del nostro peccato personale. Cosa facciamo per il bene comune e il peccato sociale contro l'ingiustizia che esiste nel nostro paese? Necessariamente dobbiamo riflettere e dobbiamo migliorare, progredendo verso una morale del bene comune, verso l'attenzione e il servizio offerto agli altri, e non soltanto a noi stessi. Purtroppo stiamo vivendo in un ambiente privo di morale, ovvero permeato dalla moralità dell'utile, di ciò che conviene. Questa situazione non può continuare nel nostro paese, e il Santo Padre ce lo ripete sempre. Non possiamo servire il Dio denaro, dobbiamo essere al servizio degli altri. Passando per la Bolivia, il Paraguay sarà la terza tappa di questo viaggio internazionale. Il Paraguay che troverà Papa Francesco si trova in una situazione particolare, perché economicamente registra una crescita del 4% all'anno, ma è ancora necessaria la lotta che coinvolge il Governo nazionale contro la povertà. È una sfida che affrontiamo e che sappiamo che interessa molto Papa Francesco. Allo stesso modo, il Paraguay è un paese molto giovane. Più del 75% della nostra popolazione non supera i 35 anni, ed è un popolo prevalentemente cattolico. Il 98% della nostra popolazione è cattolica, cattolica non soltanto battezzata, ma che difende la vita, si impegna a vivere effettivamente la propria fede nell'ambiente dove vive. In particolare, il Paraguay sta affrontando la questione del lavoro in modo che l'attuale crescita economica sia coniugata con una vera giustizia sociale. La visita del Pontefice ha poi innescato un'attiva partecipazione nazionale con eventi e dettagli organizzativi davvero singolari. Ci saranno realizzazioni veramente storiche, come l'altare per la messa realizzato con mais, grano, cocco e fagioli, e che raffigura quella che è stata la prima evangelizzazione nel nostro paese, operata dai gesuiti e dai francescani. Ci saranno poi eventi singolari, come la partecipazione dell'orchestra di strumenti riciclati di Cateura, che utilizza quanto viene gettato per farne strumenti e portare la bellezza della musica alle persone umili in tutte le parti del mondo. Ci sarà uno spettacolo che faranno in modo particolare per Papa Francesco e che ci riempie di orgoglio e di gioia, tutti noi e la nostra comunità.